metto all'interno di un contenitore le uova con lo zucchero e le vado a spumare bene con uno sbattitore elettrico ecco che uova e zucchero sono ben spumate aggiungo lo yogurt l'olio di semi e do una mescolata veloce aggiungo la scorza grattugiata di un limone una bustina di vanillina un pizzico di sale e continuo a mescolare inizio ad integrare la farina a cucchiaiate sempre mescolando integrata tutta la farina aggiungo il lievito metto il composto all'interno di uno stampo per ciambelle imburrato ed infarinato del diametro di 24 cm io oggi ho scelto questo in silicone da questa forma particolare la ciambella allo yogurt è pronta spolverizzo con zucchero a velo e poi prova assaggio io oggi ho scelto morbidissima profumatissima ottima per la prima colazione ciao a tutti al prossimo video ciao 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 ciao